Il Launch Control è un sistema che aiuta a massimizzare l'accelerazione nelle partenze da fermo. Aprilia RSV4 Factory APRC è la prima moto di serie ad avere un dispositivo di questo tipo. In pista la partenza è una fase molto delicata e concitata. L'esclusivo sistema ALC Aprilia Launch Control, coperto da brevetto, permette al pilota di concentrarsi esclusivamente sul rilascio della frizione, aiutandolo a mantenere la ruota anteriore il più possibile vicino a terra. Aprilia Launch Control si arma a velocità zero, pigiando contemporaneamente i tasti più e meno del joystick. A questo punto bisogna spalancare completamente l'acceleratore e rilasciare in modo normale la frizione. In fase di partenza, ALC inibisce temporaneamente controllo di trazione e controllo di impennata in quanto ha controlli suoi specifici. Le fasi della partenza con Aprilia Launch Control sono tre. Nella prima fase di rilascio frizione, il sistema ha l'obiettivo di aiutare il pilota a mantenere il più possibile la ruota anteriore vicina al suolo. Per fare ciò, utilizza un limitatore di giri decrescente con l'aumentare della velocità ed in caso di impennata taglia l'anticipo di accensione. Nella seconda fase, a frizione completamente rilasciata, il sistema ha l'obiettivo di non far superare un target di accelerazione longitudinale. Per fare ciò, parzializza l'apertura delle farfalle e permette il sollevamento della ruota anteriore. Nella terza fase di sgancio sistema, con marcia inserita superiore alla seconda oppure con velocità superiore a 160 km all'ora, il sistema si sgancia e vengono ripristinati i settaggi di controllo di trazione e controllo di impennata. Per adeguarsi ai differenti stili di guida e a differenti piloti, sono disponibili tre differenti settaggi TLC. Il settaggio 1, più libero e prestazionale, e il settaggio 2 e 3, più conservativi e per piloti meno esperti. A moto ferma, attraverso il comando MODE sul devioluce sinistro, si raggiungono i settaggi di Aprilia Lounge Control. Si entra nel menu del cruscotto, si seleziona Impostazioni APRC, si sposta sul lounge compressione laterale breve del comando MODE, e col joystick si modifica il livello DLC desiderato premendo sui tasti più e meno. La pagina RACE permette un accesso più veloce ai settaggi DLC. Basta infatti una pressione centrale breve sul comando MODE. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.